Tra poco Sul canale 17 di Fanno TV, l'informazione locale Sono 17 i casi positivi al coronavirus nelle Marche nelle ultime 24 ore 11 in provincia di Pesaro e Urbino 5 le persone ricoverate ma nessuna in terapia intensiva La strage di Corinaldo arriverà domani La sentenza con rito abbreviato per la banda dello spray Se gli imputati poco più che ventenni chieste condanne tra i 16 e i 18 anni Approvato il progetto per la realizzazione di una nuova rotatoria Nella zona Codma a Rosciano di Fanno Un'opera attesa da molti residenti Ultima partita di basket nello storico campetto di Muraglia a Pesaro Presto verrà sbantellato per lasciare spazio ad un campo da calcio Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia Con Marco Ferri Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia sul canale 17 Apriamo con la cronaca una breve da terre roveresche Dove c'è stato un incendio avvenuto questa mattina alle 8 In una zona in località Schieppe All'interno della ditta Paci e Pagliari Un incendio che è avvenuto per cause accidentali La combustione partita dall'erba medica disidratata Bruciate circa 200 tonnellate Sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia municipale Tuttora è in corso lo spegnimento Sono 17 i casi positivi al coronavirus nelle Marche Registrati nelle ultime 24 ore dal Gores Il gruppo operativo regionale di emergenza sanitaria Rispetto agli 11 della giornata di ieri 11 sono in provincia di Pesaro Urbino 9 dei quali riconducibili al focolaio di Montecopiolo Dove era stata organizzata una festa Che ha portato in isolamento una settantina di persone Poi tra queste 17 ci sono anche una persona già in isolamento Per contatto con un caso positivo E uno individuato in seguito ad un tampone Per accesso a prestazione sanitaria È salito invece da 4 a 5 Tutti in reparti non intensivi Il numero dei ricoverati Una paziente in ostetricia e ginecologia A Marche Nord, a Pesaro Si è infatti aggiunta nelle ultime 24 ore Agli altri 4 che erano già ricoverati Presenti nella regione Due a Marche Nord e uno a Dancona E l'altro a Macerata Dopo l'impennata di casi di positività di questi giorni Aumentano anche le persone contagiate In isolamento domiciliare Da 116 a 125 E quelle isolate in casa Per meri contatti con positivi al coronavirus Che passano da 904 a 951 Tra queste ultime 105 persone hanno sintomi 31 invece sono gli operatori sanitari In crescita anche il numero dei guariti E adesso parliamo invece di viabilità È stato approvato il progetto Per la realizzazione di una nuova rotatoria Nella zona del Codma di Rosciano di Fano Un'opera questa richiesta a gran voce Da molti residenti e cittadini Che transitano e viaggiano in quella zona Filippo Pucci Buone notizie per i residenti e gli automobilisti Del quartiere di Rosciano di Fano È stato approvato nella giornata di ieri Dalla giunta comunale Il progetto per la realizzazione Della nuova rotatoria Nel tratto dello sparti traffico In zona Codma Tra via Campanella e via Barretti Teatro di numerosi incidenti anche gravi A questa si aggiunge un'altra nuova rotatoria Più piccola Che regolamenterà l'ingresso al quartiere E che sorgerà a fianco della zona del campo da bocce Non dobbiamo dimenticare Che questo è un incrocio molto pericoloso Negli anni si sono contate decine di incidenti Che fortunatamente abbiamo interrotto Perché abbiamo modificato la viabilità Mettendo un senso unico Ovviamente non era la soluzione definitiva E con questa approvazione del progetto definitivo Che prevede due rotatori Una grande rotatoria E una piccola rotatoria Che consentirà anche l'accesso in sicurezza E normale all'interno di Rosciano Quindi con questo progetto definitivo Diamo una bella risposta Ad un problema tanto atteso da questa zona Ma direi da tutta la città L'intervento rientra nel tracciato Delle opere compensative Relative alla terza corsia della 14 Sono due rotatorie La più grande si posizionerà Sopra l'attuale sparti traffico Con un diametro di circa 50 metri Che consentirà un flusso veicolare Di alta intensità Che collegherà le due rotatorie Delle opere compensative di questa zona Ci sarà un altro intervento Di una mini rotatoria invece Molto più piccola Che invece garantirà l'accesso Al quartiere di Rosciano In seguito alle varie richieste dei residenti Che dovevano percorrere un lungo percorso Per tornare a casa Risolviamo questo disagio Attraverso questa mini rotatoria Abbiamo garantito tutti gli attraversamenti pedonali E le due rotatorie saranno circondate di ciclabili Quindi sia da via Campanella Che da via Galilei Sarà possibile attraversare queste rotatorie In bicicletta Stiamo lavorando anche sugli attraversamenti Delle attuali opere compensative Però finché non verranno cedute al comune Sarà impossibile fare gli interventi L'importo totale dell'intervento è 500.000 euro Intorno ai 370.000 euro di opere Prevediamo di iniziare i lavori nel 2021 Gli agenti del settore anticrimine Del commissariato di polizia di Senigallia Hanno individuato una coltivazione a domicilio Di marijuana e sequestrato Altra marijuana e siccate Pronta per essere immessa nel mercato Non stupefacente In tutto 700 grammi tra piante e sostanza È stato scoperto durante un controllo Approfondito presso l'abitazione Di un 25enne del luogo Disoccupato che ha negato Poi ha ammesso di avere una busta Piena di marijuana già essicata Il giovane è stato arrestato Per detenzione ai fini di spaccio E coltivazione di sostanze stupefacente Processato per direttissima È stato condannato ad un anno E quattro mesi di reclusione A poco più di un anno e sette mesi Dalla strage della discoteca Lanterna azzurra di Corinaldo In cui morirono nella calca Cinque adolescenti e una madre Trentanovenne Arriverà domani la sentenza Con rito abbreviato del GUP Paola Moscaroli Per la cosiddetta banda dello spray Sei gli imputati Poco più che ventenni Originari della bassa modenese Accusati di aver compiuto in gruppo Utilizzando anche spray al peperoncino Furti e rapine E danni di ragazzi nel locale Dove si attendeva l'esibizione in DJ set di Sfera E basta la notte tra il 7 e l'8 dicembre 2018 Generando il fuggi-fuggi E il tragico epilogo Fuori da un'uscita di sicurezza Contestati i regati di omicidio preterintenzionale Associazioni per delinquere Lesioni personali Ed episodi di rapine e furti Con strappo anche in altri locali d'Italia Il giudizio di primo grado Giunge al termine a meno di un anno Dal blitz dei carabinieri Che portò all'arresto dei sei imputati All'alba del 7 agosto del 2019 Per i sei alla sbarra I PM Paolo Gubinelli e Valentina Bavai Hanno chiesto condanne tra i 16 e 18 anni di carcere Ridotte di un terzo per il rito abbreviato Gli imputati sostengono che quella sera Sarebbero entrate in azione Per commettere furti tra bande rivali E negano le accuse di associazione E di aver spruzzato lo spray urticante in discoteca E adesso la politica Presentata la candidatura alle prossime regionali Nelle Marche di Renato Claudio Minardi Per proseguire, dice, il suo impegno Per i prossimi cinque anni Francesco Salvago Perché la fiducia che mi avete accordato Cinque anni fa deve essere corrisposta E la fiducia è un bene prezioso Che non deve mai essere deluso Ecco perché è giusto e doveroso Dimostrare ai cittadini Quello che nei cinque anni Hai fatto per la comunità E per la tua città Che ti ha dato fiducia Si candida nelle liste del Partito Democratico Per la provincia di Pesaro e Urbino Renato Claudio Minardi La presentazione ufficiale si è svolta a Fano Per Minardi accettare la candidatura È stato frutto di una scelta non solo soggettiva Ma un'importante responsabilità verso la comunità Che si intende rappresentare Dobbiamo creare posti di lavoro E per creare posti di lavoro bisogna fare sicuramente investimenti Investimenti che guardano alla sostenibilità All'innovazione Al lavoro soprattutto per i giovani All'industria 4.0 L'industria che prevede i processi in digitale Al sistema alfanumerico All'economia circolare Perché l'ambiente ovviamente è un tema Che deve essere caro non solo ai giovani Ma a tutti noi Dobbiamo continuare ad investire Ad investire in modo importante Proprio per dare una prospettiva di lavoro E questa prospettiva di lavoro Vorrei dire che va data a tutti Alle stesse condizioni Dalla costa alle aree interne In questi cinque anni Minardi Ha svolto il ruolo di vicepresidente Dell'Assemblea legislativa delle Marche È stato componente della prima commissione Affari istituzionali, cultura e istruzione E tra gli impegni presi si contano 50 proposte di legge presentate 65 emozioni Risoluzioni e ordini del giorno E 12 interrogazioni Tra le leggi regionali più innovative Afferma di Minardi Ci sono la legge sulla promozione Del libro e della lettura Difesa della cultura e della legalità Contrasto e prevenzione della ludopatia E contrasto al bullismo Per il futuro delle Marche Il candidato assume la responsabilità Dell'impegno verso ogni cittadino Così come recita lo slogan Ci sono con te Ci sono con te È un modo per dire Ho lavorato Ho lavorato in questi anni Con tanto impegno E anche con tanta dedizione È un modo per confermare Che ci sono A disposizione dei cittadini H24 Il mio telefono è sempre acceso Natale, Pasqua, Capodanno Ferragosto Il mio telefono è sempre acceso Perché chi fa politica Deve essere sempre a disposizione Del cittadino E il con te È un modo di collegare Il mio lavoro Al cittadino Alle persone che ti danno fiducia Esiterà sabato a mezzogiorno Nella spiaggia libera Di Sassonia Dopo i bagni Sergio Una manifestazione pacifica A tutela delle spiagge libere Promossa da cittadini E cittadini senza appartenenza Ideologica e politica L'appuntamento ha come intento Quello di salvaguardare Le poche spiagge libere Rimaste a Fano Dopo la notizia Di alcuni giorni fa Dell'assegnazione Di alcune porzioni Di spiaggia Alle associazioni Di albergatori Per la balneazione Dei clienti Dei loro alberghi Gli organizzatori Hanno lanciato Un appello Alla cittadinanza Affinché Possano prendere parte Con teli da mare E ombrelloni Si chiama Inside Marche Ed è una nuova associazione Che racchiude Tutti i più importanti Tour operator Dell'incoming Della regione Marche A causa della pandemia Da coronavirus Il settore ha perso Il 90% Del fatturato annuale E i turisti stranieri Sono ancora Praticamente Assenti Lo stop Imposto al turismo Dalla pandemia Da coronavirus Ha colpito duramente I tour operator Dell'incoming Ovvero Quel settore Rivolto ai turisti stranieri Che hanno bisogno Di servizi Come il trasporto I ristoranti Gli alberghi E guide Nelle zone Da visitare A fronte di questo Nei giorni scorsi È nata Una nuova associazione Dal nome Inside Marche Che ha Come compito Di riunire Tutti I più importanti Tour operator Dell'incoming Della regione Marche A spiegarci nel dettaglio La situazione E dell'associazione È il neopresidente Federico Scaramucci Nelle Marche Abbiamo circa Una cinquantina Di tour operator Dell'incoming Noi siamo quasi Una trentina Perciò Rappresentiamo In qualche modo Tutto Questo gruppo Di operatori Il nostro impegno In questi mesi Di grande crisi Diciamo Dovuti alla pandemia È stato quello Di cercare Di far comprendere Il nostro lavoro Il nostro operato E quanto impegno C'è nel fare accoglienza E di portare turisti Nella regione Marche E da oggi in poi Il nuovo gruppo Appunto Che si è costituito Cercherà proprio Di fare quello Cioè di relazionarsi Con le istituzioni Locali Regionali E nazionali Quindi della regione Della prossima Legislatura regionale A i prossimi Naturalmente anche Le istituzioni nazionali Quindi il ministero Dei beni culturali E anche l'ENIT Proprio questa mattina Infatti Ci siamo incontrati Con il direttore Generale Bastianelli Per Appunto confrontarci Sulle azioni di promozione Dell'Italia All'estero Nel prossimo Nel prossimo anno Purtroppo la pandemia Ha portato un 90% Circa di perdita Di tutti i fatturati Da parte Delle nostre aziende E noi abbiamo In qualche modo Cercato di rappresentare La categoria Spingendo per poter Ottenere dei contributi A fondo perduto Dalla regione E dallo Stato E anche per cercare Di avere delle attività Delle azioni Insomma di accoglienza Dei supporti Per le azioni Di promo commercializzazione Quest'anno in Italia E in prospettiva Anche all'estero Il nostro è un comparto Che in Italia Rappresenta circa Il 13% Del PIL E nella regione Marche Che è un comparto Molto importante Perché non solo C'è un giro D'affari Di circa 20 milioni Di euro E quasi 500 600 mila presenze Sul totale Di quelle che arrivano Nelle Marche Ma anche tutto L'indotto indiretto Dai ristoranti E le guide turistiche I noleggiatori Chi fa transfer Chi si occupa Appunto Ovviamente Le strutture recettive Quindi albergatori Extra alberghiero Quindi cercheremo In questo nostro lavoro Da qui in avanti Di lavorare In sinergia Tra di noi E cercando anche Di portare delle proposte Sul piano di promozione turistica Sulle azioni di promozione Che la regione fa Su questo settore Che probabilmente Sarà il settore Che ci può consentire La ripartenza Dopo questa grave Crisi sanitaria Ed economica La BCC di Fano Ha assegnato 211 borse di studio Per un totale Di 77.440 euro A 2.450 giovani Premiati Che si sono distinti Con voti meritevoli Nel loro percorso di studio È un segnale Di grande valore Credere nei giovani In maniera concreta E sostenere il loro futuro Ha detto il presidente Della BCC Romando Rundina La cerimonia di consegne Delle borse di studio Intitolata La memoria Dei neosposi Mirko e Monica Buttaroni Si è svolta Nel rispetto Delle misure anti-covid Con nuove modalità Di interazione Per i beneficiari Delle borse Ultima partita Di basket Al campetto Di muraglia Siamo a Pesaro In quanto Questo campetto Verrà presto Smantellato E al suo posto Realizzato Uno da calcio Ultimo saluto Allo storico Campetto Di basket A muraglia Che verrà distrutto Per lasciare Il posto Al calcio I residenti Della zona Sono amareggiati Della decisione Di eliminare Un campo sportivo Che da anni È stato utilizzato Da gran parte Di loro Il quartiere Chiede Che venga restituito Un luogo Nel quale Coltivare La passione Per la pallacanestro Il campetto Per i muragliesi È stato un posto Dove sono cresciute Diverse generazioni Ci racconta Federico Benedetti A nome di un gruppo Di amici Fra i 40 e 50 anni E che lavora Nell'area marketing Della VL Oggi il campetto Versa in pessime condizioni Tanto che le retine Dei canestri Sono state nel tempo Curate dai residenti I lavori Per trasformarlo In un campo Da calcetto Sono ormai Alle porte Questo è uno Dei cosiddetti Campi storici Di Pesaro Nel senso che È qui da Credo anche più di 30 anni Almeno sicuramente Io Da quando sono bambino Veniamo qui a giocarci Tutti noi amanti Del basket Di zona Il cosiddetto Campetto sotto casa Dove si viene a piedi O in bicicletta Senza dover andare Tanto distante Quindi giochiamo Qui da una vita Abbiamo saputo Che giustamente Per poter dare spazio Alla crescente richiesta Che ha il calcio Che questo Campetto Verrà Distrutto In qualche maniera Ci verrà fatto Un campo di calcetto Che è giusto Perché Come vedete È in uno stato Di abbandono Per cui noi Amanti Ci giochiamo comunque Però È in uno stato Improponibile Abbiamo portato Le retine da casa E ci viene questa struttura Che va benissimo E ci dispiace Che non abbiamo più Un'alternativa Chiudendo questo posto Dove poter andare A fare due tiri Con i nostri figli Il campetto è un ruogo Sociale Che serve anche per togliere Fondamentalmente i bambini Da dietro Uno schermo Ci piacerebbe che crescessero I nostri figli Un po' anche come Ci siamo cresciuti noi Qui Per interi pomeriggi E questo diciamo Ci piacerebbe poter Ripeto Qui a Muraglia Che comunque Il basket è tanto amato In città E c'è tanta gente Che lo pratica Poter avere Ecco questa soluzione Ci sono tanti posti Ex Calamita Via Petrarca O anche addirittura Parco Scarpellini Dove c'era già Un altro campetto Che adesso c'è La palestra all'aperto Che non c'è più Quindi anche questo campetto Cioè Se c'è volontà I posti ce ne sono Veramente tanti Ovviamente un campetto Che non viene manutenzionato Poi viene abbandonato Perché senza retine Con il cemento Che si alza Dopo la gente Non è invogliata Perché ha anche paura Di farsi male Quindi Un campetto Per poter fare due tiri Con i nostri figli Tra amici Che venga in qualche maniera Mantenuto Sabato prossimo Si terrà All'Anfiteatro Rastat di Fano Una nuova edizione Con l'Africa nel cuore Organizzato da Africa Chiama Onlus Siamo alla diciannovesima edizione Sabato 1 agosto All'Anfiteatro Rastat È un'edizione dedicata All'emergenza salute Che è un tema Particolarmente caro In questo periodo Mai come in questo periodo Ci siamo accorti Quanto sia importante Prendersi cura dell'altro E garantire il diritto Alla salute di tutti Quindi con l'Africa nel cuore Vuole essere una serata Per parlare dei progetti Che l'Africa Chiama Sta portando avanti In Kenya Zambia Tanzania E in Italia Attraverso anche una campagna Solidale Diritto alla salute per tutti Questo è proprio il tema Dedicato E proprio Attraverso questa raccolta fondi Grazie a questa lotteria Solidale Potremmo realizzare Quattro interventi concreti In Tanzania Con Spese mediche Garantiremo spese mediche E cure Per bambini Gravemente malnutriti In Zambia Faremo un intervento Dedicato Alle donne in gravidanza E quindi attraverso La distribuzione Di integratori Vitamine Quindi garantire la salute Materno-infantile In Kenya Attraverso appunto Progetti dedicati A donne sieropositive Il quarto progetto Invece dedicato All'Italia E infatti Attraverso questa raccolta fondi Devolveremo Una parte Che sarà Destinata All'acquisto Di materiale Come mascherine Chirurgiche Che saranno Devolute Appunto E donate Nella serata Di sabato Prima agosto A dei centri Diurni Disabili Del comune Di Fano Quindi ecco L'invito è quello Di venirci a trovare Sabato Prima agosto Sarà una serata Molto allegra Nel rispetto Delle norme Date dall'emergenza In cui si esibiranno Gratuitamente Alcuni artisti Ne cito qualcuno Canute Ejabel Con la sua cora La scuola di danza Accademia Dello spettacolo Di Fano E poi ci sarà Anche la testimonianza Di Nicola Romiti Che è quindi La presentazione Di questo cortometraggio Nico e Nico Sulla sindrome Di Williams Se quindi Conosceremo meglio Questa realtà E quindi L'invito è di acquistare Un biglietto Perché anche Ogni piccolo contributo Potrà veramente Aiutarci a realizzare Questi progetti E prima di salutarci Vi ricordo che Sabato prossimo In concomitanza Con l'inizio Dei saldi A Fano Andrà in scena La notte Dei saldi In tutto il centro storico I negozi Saranno aperti Dalle 21 Alle 24 E con questo Chiudiamo qui Il nostro telegiornale Grazie per averci seguito L'appuntamento è Con l'informazione Per domani mattina Alle 7 Con la rassegna stampa Occhio al giornale Arrivederci